Caldi toni di marrone dominano la pace autunnale della scena, sentieri serpeggianti guidano lo sguardo attraverso il dipinto creando un'illusione di profondità. Obbema ha curato meticolosamente la rappresentazione del gioco di luce su ogni singolo filo d'erba e delle increspature create dalle anatre nell'acqua dello stagno. Animali e presenze umane sono secondari rispetto alla bellezza del paesaggio e si nota appena l'esistenza di alcune case nascoste dalla chioma degli alberi. Obbema fu amico e allievo di Jacob van Ruizdael e, talvolta, i due si ritrovarono a dipingere lo stesso paesaggio. Mentre Ruizdael tendeva a drammatizzare la scena, Obbema cercava di cogliere l'atmosfera del luogo. Intorno al 1670 al culmine della carriera divenne, tramite il suo matrimonio esattore delle tasse sul vino ad Amsterdam e passò gli ultimi 40 anni circa di vita non a dipingere, bensì a ispezionare botti di vino.